Un commando di almeno tre uomini armati ha attaccato oggi l'edificio che ospita gli studi della TV Shamshed a Kabul. Secondo quanto riferisce Tolo TV, gli aggressori sono riusciti a penetrare all'interno dopo che una kamikaze si è fatto esplodere all'ingresso, causando la morte di almeno una persona. La TV segnala che dopo l'intervento delle forze di sicurezza afghane è una sparatoria in corso. Un portavoce del Comitato Olimpico dell'Afghanistan con sede adiacente alla TV ha detto che almeno 25 dipendenti sono riusciti a fuggire. Secondo fonti della TV, che trasmette in lingua Pashtun, una ventina di giornalisti e dipendenti sarebbero rimasti feriti. Fra cui anche il direttore, Abedeasas, dopo l'ingresso nell'edificio dei militanti, che indossavano divise militari, si sono udite almeno tre esplosioni. In un tweet, il portavoce dei talebani, Zabi Allah Muyaid, ha negato qualsiasi coinvolgimento dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan nell'attacco. Cancelletto TV trattino basso station in capital Cancelletto Kabul Camsander Cancelletto Attaqpik Twitter Com Raiagrwftwk Arianna News Chiocciola Arianna News Trattino basso 7 novembre 2017 Altro su MSN Libano Paura e tensioni dopo le dimissioni di Ariri Euronews Riproduci nuovamente video Messico Agricoltori protestano contro il muro con gli USA Agricoltori di tutto il mondo uniti contro il Muro fra Messico e Stati Uniti Un disegno raffigurante un membro del Ku Klux Klan And Cancelletto 232 Stato dipinto su una barriera al confine fra i due paesi per protestare contro il progetto del Presidente americano Donald Trump Il messaggio del collettivo di agricoltori And Cancelletto 232 Che il nuovo muro AVR And Cancelletto 224 Effetti devastanti sullo rispetto dei diritti umani e sul commercio Ma, soprattutto, non AVR And Cancelletto 224 L'effetto sperato Spiega Iame Castiglio dell'Unione Nazionale degli Agricoltori Regionali L'intenzione And Cancelletto 232 Cercare di far capire i governi che la costruzione di un muro non risolvere And Cancelletto 224 Il problema dei migranti Trump ha promesso di costruire un muro lungo tutti i tre 200 chilometri del confine per fermare il flusso di immigrati clandestini Dei prototipi sono G And Cancelletto 224 In fase di costruzione a San Diego Euronews Dopo la strage in Texas And Cancelletto 39 Siamo P And Cancelletto 249 Uniti And Cancelletto 39 And Cancelletto 200 L'ennesima veglia funebre negli Stati Uniti In seguito a una strage Un centinaio di persone si sono riunite nella cittadina texana dove un ex militare ha fatto fuoco Fra i fedeli di una chiesa battista uccidendo almeno 26 persone Fra loro anche il governatore dello stato Greg Abboth E al governatore Han Un abitante Dice Ho Pianto Cos And Cancelletto 236 Tanto che non ho P And Cancelletto 249 Lacrime E una ragazza commenta Quell'uomo And Cancelletto 232 Riuscito solo ad avvicinarci di P And Cancelletto 249 Gli uni agli altri Adesso siamo una comunità And Cancelletto 224 P And Cancelletto 249 Unita Quindi saremo P And Cancelletto 249 Forti e sconfiggeremo questo tipo di fenomeni E questi fenomeni non sono dovuti all'estrema facilità And Cancelletto 224 Con cui circolano le armi negli Stati Uniti Di questo And Cancelletto 232 Convinto il presidente Donald Trump Secondo le quale il problema non sono le armi Ma chi le detiene Come il responsabile di questo massacro Ha detto il capo della Casa Bianca Che era semplicemente uno squilibrato Euronews Falso allarme bomba al Bolshoi di Mosca Era falso L'allarme bomba che ieri ha portato all'evacuazione del Bolshoi A Mosca Lo ha fatto sapere la direzione del famoso teatro All'interno dell'edificio non è And Cancelletto 232 Stato rinvenuto nulla di sospetto Per precauzione Comunque 3500 persone sono state fatte evacuare Oende Cancelletto 232 Stato loro impedito l'ingresso Fra loro c'era anche Lucia Santona Una turista spagnola Stavamo entrando Avevamo i biglietti Ma la polizia ci ha detto che lo spettacolo era stato cancellato Forse c'era un pericolo Una bomba Non so Comunque non ci hanno dato informazioni Nel tempio internazionale del balletto e della musica classica era in programma un concerto Dedicato al 100 And Cancelletto 176 Anniversario della rivoluzione russa Un tentativo di seminare il panico Secondo le agenzie di stampa rosse e coordinato con altri precedenti falsi allarmi bomba Che erano scattati nella stessa giornata Uno ai grandi magazzini GAM Sulla piazza rossa Altro luogo emblematico della capitale russa e l'altro all'hotel Metropol Entrambi evacuati per diverse ore Non si segnalano rivendicazioni Ma LFSB Il servizio di sicurezza russo Dice di conoscere i responsabili Sarebbero cittadini russi residenti all'estero Ma con complicit and cancellet 224 All'interno del paese Euronews I M P O S T A Z I O N E N O N Attivo H D H Q S D L O Euronews Grazie.